E' definitivamente ufficialmente partita la giunta di Domenico Surdi, sindaco di Alcamo, con i suoi assessori. Lo stesso sindaco di Alcamo Domenico Surdi, dopo aver distribuito e assegnato le deleghe, ha tenuto per sé quelle per l'arte, lo spettacolo, la pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, gli appari legali, gli organismi partecipati. Roberto Scurto sarà assessore ma anche intanto vice sindaco. Come l'attualità sta dicendo in questi giorni, c'è una problematica legata al bilancio, al commissario, quindi massima attenzione sarà posta già subito sul tema del bilancio. Lavoreremo chiaramente a stretto contatto con i dirigenti e i funzionari per risolvere questo problema e quindi risolvere il tutto in brevissimo tempo. Dopo aver incontrato i dirigenti e gli impiegati, la prima cosa che le hai in mente di fare oltre al bilancio qual è? Sicuramente valuteremo tutti i costi della macchina amministrativa e burocratica, oltre ai costi della politica, perché da lì partiremo. Tagliando chiaramente i costi superflui dovuti all'inefficienza e a disservizi e migliorando quei servizi che invece necessitano sicuramente di un rafforto, sia dal punto di vista del personale, sia dal punto di vista della dotazione anche strutturale e hardware. Le deleghe, peraltro per Roberto Scurto, oltre a quello di essere il vice sindaco, sono nel completo quella al bilancio, alle finanze, allo sviluppo economico e imprenditorialità, alle politiche giovanili, al patrimonio, ai beni confiscati e alla legalità. Abbiamo voluto dare un taglio diverso anche con il passato, c'è nessuno più soltanto con una delega singola e solitaria, ma un lavoro di squadra. Come nelle migliori aziende, le task force hanno raggiunto risultati molto soddisfacenti, anche in comune cercheremo di analizzare determinate situazioni, determinate problematiche tutti assieme.